ben approdati nuovamente sul mio canale finalmente ritorno è un sacco che non giro video ma sono stata un po' un picciotella però innanzitutto ho una maglia a maniche lunghe sebbene siano un po' tirate su questo vuol dire che il tempo è più clemente l'autunno si avvicina vi prego fatemi godere almeno un mese di autunno prima che arrivi l'inverno pieno poi sotto da me è scattato il momento karaoke io non so se lo state a sentire ma c'è musica a palla è gente che canta squarcia a gola ma non sarebbe uno dei miei video altrimenti questo che video è? perché fare la classifica dei top soltanto a fine anno? io che sono la Lizzi vi porto la classifica dei top dei the best dei prodotti più utilizzati di questa estate 2019 e siccome come la solida roba è veramente troppa andiamo a incominciare come avrete notato sono priva dei miei artigli perché sto facendo un mesetto di pausa a ottobre tornerò a fare le unghie è veramente tantissimo che le faccio in maniera continuativa e Valentina era già un paio di mesi che mi diceva quando è che smontamo tutto ti fai un mesetto di pausa ti rifiamo da capo fate bene il momento è arrivato e già mi mancano mi sembra di averci i moncherini comunque allora cominciamo con un po' di roba per la base come risaputo e noto io in estate faccio praticamente una base quasi inesistente cioè il fondotinta non lo uso ma utilizzo soprattutto il correttore come correttori quelli che mi sono trovato a utilizzare praticamente sempre sono Loro Lastra Long Stay Concealer le tonalità che ho utilizzato di più sono 04 per andare a correggere soprattutto le occhiaie alternato a volte con lo 02 lo 02 invece per andare anche un po' ad illuminare questo è un correttore che vi ho consigliato triliardi e trilioni di volte veramente ottimo veramente veramente ottimo soprattutto per pelli mature occhiaie plissettate secche con pelle sottile perché anche la texture di questo correttore è veramente sottile e non va a seccare il contorno occhi né a creare spessore un prodotto veramente topissimo di Astra per fissare tutto stambaradan due correttori cosa cosa vado ad applicare la Lizzy allora un prodotto che vi ho consigliato sempre c'era sia nella sua versione high cost che nella sua versione low cost come low cost vi consiglio fortemente i fondotinta compatti in polvere di Kiko tutti quelli che escono con le limited edition sono semplicemente top innanzitutto hanno l'SPF 50 e le shade purtroppo sono quelle che ci peccano sempre soprattutto nelle limited perché non arrivano mai a toccare delle colorazioni veramente scure il che mi fa anche strano visto che di solito escono con le collezioni estive e quindi dovrebbero andare incontro a chi si abbronza ma vabbè comunque è un ottimo prodotto piuttosto sottile setoso vellutato e in questo particolare frangente non ho utilizzato quello di Kiko per fare questa base ma sono andata ad utilizzare quello di MAC lo Studio Fix di MAC le colorazioni che ho io sono sono la 01 Fair per quello della Ocean Fill e la C3.5 per quanto riguarda lo Studio Fix di MAC lo Studio Fix di MAC ovviamente ha una texture ancora più sottile ancora più vellutata e soprattutto con un ottimo potere levigante ma per quanto riguarda i low cost questo va egregiamente a fare il suo lavoro anche se certo io quando devo fare la Splendida vado del Studio Fix alternativamente sempre per andare a fissare il correttore sono andata ad utilizzare tantissimo ed anche per lavoro per quei pochi ingaggi che sono riuscita a fare quest'estate causa, contesto in cui viviamo ora sono andata ad utilizzare questa la polvere di riso di Astra che ormai non manca mai né nel mio beauty né nel mio kit di lavoro è semplicemente fantastica mi sono trovata ad utilizzarla anche su pelli molto molto mature fino agli 80 anni e non mi è andata ad appesantire né a seccare né ad enfatizzare le pieghe le rughe d'espressione fa splendidamente il suo lavoro e se ne può usare pochissima alla volta è anche stratificabile senza fare spessore un prodotto assolutamente ottimo proseguendo con la base anche se in realtà cioè sto panna a caso gente comunque allora una paletta che mi sono trovata ad utilizzare veramente troppo è questa come avrete intuito la mood boost è una delle collezioni che mi piaceva di più in assoluto tra le ultime uscite di Kiko vi starete chiedendo perché ancora non ho fatto un video sulla nuova collezione autunnale arriverà ma sarà un video molto molto particolare comunque questa palette è fantastica ve l'ho consigliata in tantissimi video è assolutamente un prodotto da non farsi scappare soprattutto adesso che ci sono gli sconti ha delle polveri ottime che si fondono benissimo con l'incarnato è veramente in un attimo sono stratificabili sottilissime profumatissime di rosa e di fiori bellissima la terra che è quella che ho utilizzato oggi per fare il contour e bellissimi i blush il blush anzi perché quello più che un blush io lo trovo illuminante sobrio con cui io vado ad enfatizzare le perlescenze del blush più che altro è bellissimo anche l'illuminante super sottile e luminosissimo anche questa senza rendermene conto ce l'avevo sempre in mano un prodotto che ho riscoperto adesso comprato due anni fa ma ora lo sto utilizzando proprio come se non ci fosse un domani ed è questo prodotto di MAC è un quad di polveri viso cotte luminose e si chiama naturally enhanced e fa parte della linea mineralized skin finish che ha diverse cose tra le quali potete trovare anche illuminanti blush terre e via discorrendo questo è veramente stupendo va dosato molto bene perché ha una pigmentazione elevatissima però dosando bene le quattro polveri si può ottenere una base viso e non sto scherzando anche un full face super naturale baciata dal sole che è qualcosa di pazzesco se volete invece faccio il video full face solo con questo e ve faccio vedere io non so se è ancora in commercio proverò a vedere se riesco a tro madonna quanto sono burrose queste polveri questo è il mio blush della vita lo porto oggi ed è semplicemente meraviglioso ve le swatch tipo al volo così ma meriterebbero un po' di più eccole sono stupende cioè questo blush foreva e potete anche prenderlo tutto insieme per andare a fare un po' questo effetto tra in uno un po' come la powder della pure beauty di astra anche astra è uscito con delle nuove chicche stay tuned perché arriveranno pure loro e niente questo sempre con me un altro bronzer che ho utilizzato veramente tantissimo è questo ormai sto facendo la fossa praticamente nella cialda guardate come diamine l'ho ridotta ve ne ho parlato anche in tantissimi altri video è di wet and wild ed è il color icon bronzer la colorazione è palm beach ready poi cercherò di mettervi tutto l'elenco nell'info box se mi regge l'anima e questo è stupendo sia come bronzer ma volendo anche con questo in velocità potete andare a fare un bellissimo effetto 3 in 1 sfumandolo sul gote e zigomi perché ora oltre ad andare a farvi l'effetto bronzer vi fa un po' di sculpt ed ha dei riflessi che vanno sul malva e vi fa pure effetto blush gente ma bello bello da morire 2 blush in polvere pazzeschi questo è un colore che veramente sta bene a chiunque chiunque è un color biscotto di un rosato caldo bellissimo ed è di astra eccolo qua su guardate la bellezza di questo blush questi blush costano una cavolata gente tipo 3,90 o 4,90 non ricordo questa colorazione è la numero 02 e non fatevela assolutamente scappare perché sono dei blush con una texture favolosa burrosi morbidi si fondono benissimo si sfumano sono modulabili o riswatch di nuovo perché la febbra proprio e questo è proprio il colore il mio Fabiana Lizzi color questo c'è vedere vomito ma l'ho usato un botto quindi non posso non mettere questo blush stupendo di Catrice che è il Cheek Lover Oil Infused Blush un blush cotto ed è meraviglioso gente c'ha quella luce spettacolare che io amo nei blush che è un po' sulla falsarisa di riga di orgasmo ma questo è molto molto più pigmentato e più intenso quindi attenzione a dosarlo con il pennello e non fatevelo assolutamente scappare perché vi fa un bellissimo effetto 3D agli zigomi troppa roba rica come sempre comunque andiamo con i prodotti in crema che a me mi piacciono da morì e vi segnalo questi due blush bellissimi delle nuove collezioni sia di Wicon che di Kiko questo della Fruit Explosion la colorazione che io ho amato è la numero 01 questo si fonde veramente benissimo con l'incarnato non sono certa se sposti o meno la base perché l'ho sempre messo senza fondotinta tanto perché non l'ho usato questo è stato il fondotinta quindi io non ho avuto questo tipo di problematica da affrontare ma fatemi sapere perché l'ha preso e l'ha provato perché qualcuno mi ha detto che un pochino la base la sposta io invece mi ci sono trovata benissimo e il colore è veramente stupendo e anche questo Havana Chic meraviglioso sempre come colore proprio un effetto bomba di salute bellissimo tant'è che cioè l'ho quasi finito gente guardate quasi comincio a intravedere la violetta mio dio cosa che mi è successa raramente la colorazione è la numero 03 comunque dopo cercherò di scrivervi comunque tutto e questo dovrebbe essere utilizzabile anche sulle labbra gente no ve le ammazza ve le incarta peculisce vi succhia pure l'anima dell'antenati quindi no come blush ottimo ma sulle labbra uai con la mia no passiamo agli illuminangi e gente io ve ne posso mettere due perché sono quelli che ho avuto più tempo di utilizzare che ho utilizzato per più tempo e poi ci sarebbe anche quello di essence pazzeschissimo ma quello l'ho comprato da troppo poco tempo per cui alla fine mi sono trovata utilizzare più questi anche perché è chiarino quindi penso che lo utilizzerò tantissimo adesso che bene l'autunno e inverno e quindi vi consiglio questi due prodotti questo che ormai ci ho fatto l'obsession ed è quello della dolce vita la colorazione che ho preso io la 01 e niente ve ne ho parlato veramente tante volte che Vodica fa un prodotto veramente spaziale e questo sul serio non sposta la base modulabile cioè devo farci anche un total look con questo perché mi sembra che si possa usare anche sugli occhi e ci ho in mente qualcosa un altro illuminante super rivelazione non gli avrei dato tu dire è quello della Fruit Explosion la colorazione che ho io è la 02 Coral Sunset è quello che porto anche oggi non so asserendo che meraveggia non fatevelo scappare perché adesso con i saldi già comunque non aveva aveva un buon punto prezzo adesso che Vodica fa e poi questo è il dupe di un illuminante di becca di una limited addiction quindi due prodottini occhi al volo ok questo ormai vabbè inflazionatissimo è il mio brow pot della vita ed è quello di Astra il Gasha Brows io uso la tonalità 03 e niente questo pazzesco ho usato esclusivamente questa base tranne per alcuni make up un po artistici per cui magari sono andata ad usare quella di Anastasia ma pochissime volte perché questa è veramente top fa durare a lungo gli ombretti prepara bene la palpebra non è correttiva ma va comunque a omogenizzare leggermente le discromie ed è idratante gente per me che ho non ho palpebra oleosa ma ho una palpebra secca soprattutto in questa parte iniziale è stata una manna dal cielo perché quella di Anastasia ultimamente me la secca leggermente troppo questa invece è ottima veramente ottima un prodotto di Astra da mai più senza abbiamo delle palette partiamo da quella che ho utilizzato per realizzare il look che vedete oggi che è la cutie palette di Nabla la coral bellissima è stata scontatissima su Pink Panda per un sacco di tempo non so se attualmente è sotto sconto controllerò prima di editare il video magari se riesco a reperire le informazioni ve lo metto qua è pazzesca gente bellissima pigmentazione ottima sfumabilità ottima sono degli ombretti portentosi quelli di Nabla e soprattutto cioè guardate quello che ho sulla palpebra mobile mandarin mandarin è la vita la vita questo ombretto è la mia vita guardate che pazzeschitudine e se lo bagnate si evidenziano anche le sfumature color mandarino madonna mia guardate che riflessi ma come si fa cioè questa l'ho usata tantissimo me la stavo anche portando in Liguria invece poi alla fine ne ho portata un'altra in Liguria mi sono portata questa che è della collezione dolce diva di Kiko ed è questa qua meravigliosa ve ne ho parlato anche questa in tantissimi video guardate quanto è bello questo colore qui ma anche questo come punto luce è qualcosa di incredibile bello pieno corposo ricco luminoso ricco di riflessi Kiko sta migliorando tantissimo per quanto riguarda gli ombretti questa è la numero 01 stylish coral mi sembra sì esatto e niente accaparratevele ora che sono scontate usata tantissimo soprattutto questa on the go così come on the go ho altre tre palette da farvi vedere questa è una vecchia gloria io non ho neanche idea se sia ancora rivenduta o meno sinceramente ma penso che sia una delle migliori paletti in assoluto fatte da o da beauty con questa ci potete fare la qualunque in qualunque occasione per qualunque necessità questa è proprio la palette passepartout io se non fossi così malata di make up starei bene camperei una favola anche solo con questa palette e non aggiungo altro shimmer bellissimi matt stupendi modulabilissimi anche come pigmentazione costruibili questo è un argento fotonico il nero purtroppo mi è morto l'ho sostituito con uno di wagon che non è male purtroppo penso che se la finisco questa potrò ricomprare invece viaggia il core perché è una palette che non deve mancare mai e io questa 365 giorni l'anno gente ma sul serio qualunque look vado a fare vado di corsa eccetera questa altre due palette veramente molto sfiziose questa di Urban Decay che spesso è scontata a un prezzo irrisorio perché è di listino mi sembra 31,90 spesso la trovate a 18,90 e non fatevela scappare se la trovate a quel prezzo tenete d'occhio sotto il Black Friday perché è una di quelle palette da weekend che ci potete fare quello che vi pare ecco per il cane ci mancava Laila si è in bizzarita ma andiamo avanti ci sono questi shimmer che sono bellissimi infusi di cristalli luminosi io ho anche la grande e ve la consiglio troppo perché sono dei colori che madonna mia hanno dei riflessi gente che non si può accampare senza di questi guardate qua cioè riflessi infiniti una luce abbagliante e la cosa più figa è sovrapporli fra di loro per creare nuove colorazioni è una palette veramente che vi dà tutto basico se vi sapete sbizzarrire potete farci anche look abbastanza diversi fra di loro e comunque avete una transition un colore per dare profondità al look e un colore per andare ad illuminare l'arcata sopraccigliare che è quello che ho usato oggi sotto il mio arco sopraccigliare un gioiellino sempre mood boost di cui ho preso diversi pezzi proprio perché mi è piaciuta da morire e vi consiglio questa palette qui sia questa che l'altra sui marroni che io non ho ma la qualità è la stessa e la qualità di questi ombretti è pazzesca è proprio da questa collezione che ho cominciato a vedere un cambio di qualità da così a così per quanto riguarda le texture di Kiko è davvero sfumabilità morbidezza lavorabilità pigmentazione pazzesco e gli shimmer sono bellissimi soprattutto questo è una luce abbagliante dura solo un istante vediamo si chi ha colto la citazione comunque bellissimi anche questa l'ho usata tantissimo altre due palette che ho usato veramente tanto e questa mi ha fatto ritrovare l'amore per i colori caldi è la Orchid Dusk di Catrice ve l'ho fatta vedere anche nell'ultimo video dei dupe perché strizza l'occhio alla rose gold di Huda Beauty ma ha una qualità devo dire molto più soddisfacente delle polveri i colori luminosi sono stupendi sono stratificabili sono sovrapponibili fra di loro sfumabilissimi ottima ottima paletta invece divertita un sacco e proprio per dei look luccicanti luminosi caldi bellissima secondo me anche in autunno e la rimetteremo in gioco anche in autunno e questa è un'altra palette che ho usato proprio tanto ma l'ho usata tipo quasi tutti i giorni per almeno un mese di seguito perché volevo provare tutte le combinazioni possibili nel look di oggi ho utilizzato uno di questi ombretti tra quelli super super luminosi cioè questo qua come punto luce nell'angolo interno dell'occhio guardate che spettacolo che è molti di voi mi hanno detto di averla acquistata spero che vi siate trovate bene alcuni mi hanno scritto in direct mandandomi la foto comunicandomi di averla presa fatemi sapere qui nei commenti se avete acquistato qualcosa di quello che vi sto facendo vedere sotto mio consiglio fatemelo sapere giù nei commenti e ditemi come vi state trovando e questa è un'altra paletta che ho veramente usato tantissimo sia per look pazzi folli con abbinamenti di colori pazzeschi sia per look tranquilli naturali da tutti i giorni ci ho fatto veramente la qualunque cosa non sembra vederla perché è una di quelle palette che dici ma che ce faccio io che non sono matta e invece vi assicuro che giocandola bene ce potete fare qualunque cosa e poi profuma completiamo la sezione occhi con un po' di mascari e ah c'è anche un eyeliner questo gente mi sono accorta che è il mio eyeliner preferito in assoluto Melissa Tani è colpa tua perché l'ho visto da lei l'ho preso ma vi devo dire che con questo eyeliner veramente ci fate qualunque cosa potete modulare il segno quanto vi pare è nerissimo dura a lungo è facilissimo da utilizzare io non me lo sarei mai immaginato perché ha questo tipo di pennellino che di solito scappa e invece no c'ho un controllo pazzesco costa solo 2,98 euro devo andare a ricomprarlo perché l'ho quasi finito gente uso solo questo bomba vabbè ve stupisce questo veramente è stato sempre con me anche in viaggio anche nei weekend fuori quando rimaneva a dormire da qualcuno lui c'è sempre e a rotazione è un altro mascara vicino e niente non c'è bisogno di aggiungere altro mi sono trovata ad usare spessissimo anche questo come top coat e l'ho utilizzato oggi in combo con un altro mascara di cui credo di non avervi mai parlato e questo è il top coat effetto volumizzante di Kiko credo che ora ci siano tutti i mascara 3,90 se non sbaglio vi darò conferma sempre qui e vi consiglio di dare un'occhiatina a questo piatelo e l'ho utilizzato in combo con questo mascara di NARS che è il famosissimo Climax o Climax gente io quando l'ho visto uscire non gli ho dato d'ulire non l'ho proprio preso appena uscito e non ne avevo sentito neanche delle buone recensioni poi mi hanno dato questo campione da Sephora ho cominciato a usarlo oh a me mi fa un effetto gente che cioè pazzesco ma guardate che roba e io so come sono le mie ciglia sfigate sfigatissime questo me le fa pazzesche ha lo scovolino a clessidra come al solito leggerissimamente a clessidra bello grosso di setole normali non in silicone ottimo cioè provatelo si è un mascara che costa 28 euro però vi dico io una volta che ho finito queste questo qui lo compro in full size altro mascara che voglio comprare in full size e che ho utilizzato soprattutto fuori casa nella mia pochette on the go assieme al climax o climax di Nars è questo qui di Anastasia Beverly Hills che ha lo scovolino top top in the world con la giusta clessidratura sempre in setole classiche e anche questo con già due pettinate mi fa delle ciglia da panico ma stavo a dimenticare questo di Tarte eccolo qua il Lights Camera Lashes di Tarte anche questo è un mascara che mi è piaciuto tantissimo e non me lo sarei mai creso perché le pettine veramente molto bene non le appiccica fra di loro dà un bel potere è incurvante allungante volume non tantissimo però io tanto poi vado ad aggiungere il top coat è veramente un buon mascara non male sono curiosa di provare anche l'altro di Tarte prodotti labbra allora ho usato soprattutto soprattutto per ogni altra cosa soprattutto per uscire perché sotto la mascherina eccetera questi due prodotti qua gli oli per le labbra entrambi ottimi entrambi molto emolienti idratanti confortevoli con un bel effetto rimpolpante alle labbra ottico ovviamente esclusivamente ottico per la lucidità e sono quello di Kiko della collezione Fruit Explosion quello agli agrumi che è madonna quanto è buono e questo di Astra che vabbè è un mio top da quando è uscito praticamente matite labbra così come anche quella che ho utilizzato oggi e penso che ormai mi tirate qualche cosa comunque la 216 brownie di Wicon delle Pro Lip Pencil poi mi è piaciuta tantissimo sempre di Wicon della linea Intense Lip Pencil la numero 59 Sweet Escape che è un altro di quei marroncini che diceva da rota e poi che è una via di mezzo fra matita e rossetto uno dei Jumbo Lip Pencil no Lipstick di Astra la colorazione è la numero 27 un nude marroncino bellissimo questo ve lo faccio un attimo vedere guardate che bello che è sulle labbra oggi porto la matita di Wicon questa la 216 brownie e come rossetto taratatan questo qua di Milani che è stato un regalo di Stefania Stefania te se ama perché mi hai fatto scoprire il rossetto della vita ed è il numero 60 matt innocence ed è questo nude chiaro caldo leggermente pescato che è proprio la vita guardate la vita c'è pure un profumo di mandorla che dei confetti altri prodotti labbrabra usati veramente tantissimo sono questo qua di Uda Beauty che è il mio top forever in assoluto ed è trendsetter il mio nude per eccellenza praticamente ha una durata incredibile anche sotto la mascherina anche mangiando è proprio indelebile e la formula mi piace molto perché per essere un rossetto che si asciuga un rossetto liquido è piuttosto confortevole o quantomeno per me un altro rossetto che invece ho fatto venire vomito è anche questo super stain crayon di Maybelline la colorazione la numero 15 che è lead no lead the way ed è il dupe di pillow torque di Charlotte Tilbury confortevolissimo all'indosso si fissa e li rimane sottile e comodissimo da portare dura una cifra questo di essence un pochino meno confortevole quando si asciuga ma comunque ha un bellissimo effetto matt ed è uno dei color boost matte about matte liquid lipstick di essence la colorazione è 02 I love you me nado voglio andare a prendere anche duck face che è un colore che mi piace da pazzi sempre uno di questi nude così che adoro e poi vabbè il mio top top forever in deva tra i gloss che è questo fancy beauty cream gloss honey waffle numero 03 ormai uso a memoria bellissimo questo cinnamon pazzissimo ultimi due prodotti che mi stavo a dimenticare questo le liner bianco come l'avete visto usare in tanti make up e mi ci sto asfiziando tantissimo questo di NYX devo dire non è affatto male voglio provare anche altri colori per quest'autunno rinnoviamo un po' e ve lo consiglio anche a voi e poi prodotto che non è mai mancato ho usato tantissimo per fissare soprattutto questo ed è il ritual fixing spray di Astra e infatti lo sto finendo si arriva da già a metà l'odore di pesca mi innamora e fissa il trucco e rinfresca soprattutto in estate top e con quest'ultimo prodotto la mia carrellata si conclude qui questi sono tutti prodotti che ho usato di più in assoluto durante questa estate 2021 quelli che mi ritrovo sempre in mano senza manco rendermene conto quindi quelli che ho trovato più top e più performanti spero di avervi dato con questo dei consigli e dei suggerimenti utili vi aspetto nei commenti per sapere se avete provato anche voi qualcuno di questi prodotti se qualcuno l'avete acquistato sotto il mio consiglio fatemi sapere come vi siete trovati e quali sono i vostri top di questa summer 2021 detto questo come sempre io vi saluto vi si ama a tutti quanti vi si ringrazio a tutti quanti e ci vediamo al prossimo video miau miau ciao 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 ciao